Ora leggeremo insieme e commenteremo un estratto di buddismo e società riferito allo studio di questo mese. Ovviamente la parte estesa dei commenti verrà pubblicata a parte successivamente, come sempre facciamo in questo canale. Ti invito all'acquisto della rivista buddismo e società che contiene, oltre allo studio per intero, molto altro. Grazie e buon ascolto. Pagina 33 Lo studio mensile per crescere insieme nella fede. Lezioni di Dezaku Ikeda sugli scritti di Nichiren Daishonin. Passi chiave dalla raccolta degli insegnamenti orali. Studio di aprile 2024. Capitolo. Il maestro della legge. Il grande voto di Kose Rufu è il cuore della Soka Gakkai. Primo brano. Dalla raccolta degli insegnamenti orali. Capitolo decimo. Il maestro della legge. 16 punti importanti. Punto primo su maestro della legge. La raccolta degli insegnamenti orali dice Ora Nichiren e i suoi seguaci, che recitano Nammyoho Rengekyo, sono i migliori tra i maestri della legge. Il duplice aspetto dei maestri della legge. Ricercare la via e guidare gli altri all'illuminazione. Parlando dei maestri della legge. Come prima cosa, Idaishonin afferma che lui e i suoi seguaci, che recitano Nammyoho Rengekyo, sono i supremi maestri della legge. Maestro della legge. Il titolo del Sutra del Loto presenta due aspetti, o ruoli, dei maestri della legge. Fare della legge la propria maestra e guida nella vita. Agire a propria volta come maestri, condividendo con gli altri la legge, alla quale ci si è risvegliati. Il primo aspetto corrisponde a ricercare la via e recare beneficio a se stessi, impegnandosi per ottenere l'illuminazione. Il secondo consiste nel guidare gli altri e recare loro beneficio, indicando la via per ottenere l'illuminazione. Concentrarsi unicamente sull'illuminazione personale significa mancare di compassione per gli altri. Ne sono esempio i praticanti dei due veicoli, ascoltatori della voce e risvegliati all'origine dipendente. D'altro canto, concentrarsi unicamente sull'ecare beneficio agli altri può condurre all'ipocrisia o all'arroganza. Solo quando questi due aspetti coesistono in maniera complementare, può fiorire un'autentica umanità. I maestri della legge, come implica la definizione, sono leader spirituali, che vanno tra la gente e non si stancano mai di condividere la grandezza del buddismo. Il Daishonin dichiara Ora Nichiren e i suoi seguaci, che recitano Nam-myoho-renge-kyo, sono i migliori tra i maestri della legge. Fedeli a queste parole, noi della Soka Gakkai, che oggi recitiamo Nam-myoho-renge-kyo, l'essenza del Sutra del Loto, stiamo facendo emergere la saggezza, la compassione e il coraggio, necessari per dare un contributo positivo alla società. Siamo i grandi maestri della legge, che si inseriscono nel lignaggio diretto di Nichiren Deishonin. Nel buddismo di Nichiren, i maestri della legge sono coloro che vivono e condividono i principi del Dharma tramite Nam-myoho-renge-kyo. Nichiren e i suoi seguaci devono essere visti come i migliori esempi, come promuovendo il Sutra del Loto. La loro missione è doppia, cercare la propria illuminazione e aiutare gli altri a trovare la loro, questo è importante. Questo incarna lo spirito del Bodhisattva, basato sulla compassione e l'equilibrio tra migliorare se stessi e aiutare gli altri. Nichiren valorizza l'unione di questi aspetti. L'essere estremi porta o all'egoismo o all'ipocrisia. Nasciamo in un'epoca malvagia in virtù del potere del nostro voto. Un tratto saliente del capitolo Il Maestro della Legge è la descrizione dei Bodhisattva, che rinunciano alle ricompense pure, ottenute grazie alla loro pratica, per rinascere in un'epoca malvagia e praticare il Sutra del Loto, una nobile scelta animata dal desiderio di permettere a tutti gli esseri viventi di ottenere l'illuminazione. Il Gran Maestro Miaolo definisce tale scelta assumere volontariamente il karma appropriato. Si riferisce al fatto che attraverso il potere del voto di salvare tutti gli esseri viventi, tali Bodhisattva rinascono in questo mondo di Sa pieno di sofferenza per diffondere con vigore la legge mistica. Si può dire che questa pratica fondamentale è ciò che caratterizza i Bodhisattva della Terra, che appaiono successivamente nel quindicesimo capitolo del Sutra del Loto, emergere dalla Terra, e come inviati del Tathagata, dedicano la vita a diffondere la legge mistica, nell'epoca malvagia dopo la sua morte. Nella raccolta degli insegnamenti orali, i Deishonin proclama «Le persone che sono nate in questo mondo malvagio sono Nichiren e i suoi seguaci». In altre parole, Nichiren e i suoi seguaci sono ipotesattua, che hanno fatto il voto di assumere volontariamente il karma appropriato. Nel loro cuore risuona questa fiera e gioiosa dichiarazione. Uniti dai legami di Maestro e Discepolo abbiamo scelto di nascere insieme, in questo mondo, in quest'epoca malvagia, grazie al nostro voto condiviso. I Maestri e Discepoli Soka hanno continuato ad avanzare dinamicamente, nell'epoca presente, per realizzare coserrufo mondiale. Innumerevoli membri di ogni zona del pianeta hanno raccontato felici le loro esperienze di assumere volontariamente il karma appropriato e di avere trasformato il karma in missione. Hanno dimostrato quanto sia grandiosa la rivoluzione umana di un singolo individuo e quale fonte di speranza e di ispirazione possa diventare. Il Sutra del Loto dice che coloro che abbracciano il Sutra liberamente hanno scelto il luogo dove nascere. Noi tutti siamo nati adesso, nell'ultimo giorno della legge, in terre, tempi e circostanze, che abbiamo scelto per adempiere la nostra missione di bodhisattua della Terra. Quando ci risvegliamo al nostro grande voto dall'infinito passato, il significato della vita cambia completamente. Ogni sofferenza si trasforma in missione, perché siamo tutti e tutte, senza eccezione, bodhisattua, che hanno formulato un voto. Le nostre attività esprimono l'enorme gioia di essere, ciascuno e ciascuna di noi, un inviato del Tathagata, descritto nel capitolo il maestro della legge, mandato dal Tathagata a proseguire la sua opera. E adesso, rappresentanti del Tathagata, stanno emergendo ovunque nel mondo. I bodhisattva scelgono la rinascita in quest'epoca malvagia, guidati dal profondo voto di Kosen Ruf, ed è attraverso l'adozione volontaria del karma appropriato che questo viene fatto. Nessuno ci ha costritti. L'abbiamo voluto, per dirla così un po'. Siamo dei moderni supereroi che vogliono salvare il mondo, ma per farlo dobbiamo rimanere uniti come una squadra. Pagina 35 Kosen Rufu inizia da un dialogo tra due persone. Il termine maestro della legge può dare l'impressione di qualcuno che parla davanti a un grande pubblico, ma il Sutra del Loto spiega che non è necessariamente così. Afferma che chiunque condivida il buddismo, anche solo con una persona, è un inviato del Tathagata, che si tratta di diffondere la legge mistica o di guidare le persone all'illuminazione. Tutto inizia dall'arrivare al cuore di chi si ha di fronte. Ogni persona è intrinsecamente degna di rispetto, perché possiede la natura di Buddha. Nessuna merita di essere denigrata o disprezzata. Per questo i dialoghi individuali e i piccoli incontri sono così importanti. Il 3 maggio 1951, Quando Toda diventò presidente della Soka Gakkai e promise di raggiungere l'obiettivo di 750.000 famiglie di praticanti, dichiarò che Cose Rufo si sarebbe realizzato attraverso il dialogo individuale, faccia a faccia. Facendo sempre del nostro meglio, per valorizzare ogni singolo individuo, abbiamo incoraggiato le persone a impegnarsi insieme a noi per questa nobile causa. Nella raccolta degli insegnamenti orali, Nel mondo di Cose Rufo la tua voce conta, specialmente quando si tratta di parlare uno a uno. Non è una questione di tenere discorsi epici davanti a folle oceaniche, ma di connettersi sinceramente con una persona, come stringere una specie d'amicizia, ma con un'intenzione profonda, riconoscere il valore e il potenziale di ogni individuo. Perché ogni persona ha qualcosa di speciale, merita rispetto e, non ci dimentichiamo, che è dentro di sé alla natura di Buddha. Quando Toda e la Soka Gakkai hanno parlato di cambiare il mondo, hanno iniziato con il cambiare una vita alla volta. Pagina 36 Secondo brano Da la raccolta degli insegnamenti orali Punto settimo Sulla veste, il seggio e la stanza nel brano Re della medicina Se vi sono uomini e donne, devoti, i quali, dopo l'estinzione del Tathagata, desiderano predicare questo Sutra del Loto, alle quattro categorie di credenti, in che modo dovrebbero spiegarlo? Questi uomini e donne, devoti, dovrebbero entrare nella stanza del Tathagata, indossare la veste del Tathagata, sedere sul seggio del Tathagata e disporre ampiamente il Sutra a beneficio delle quattro categorie di credenti. Ora, Nichiren e i suoi seguaci, che recitano Nam-myoho-renge-kyo, stanno adempiendo queste tre regole della predicazione, rappresentate dalla veste, dal seggio e dalla stanza, in ogni istante della loro vita. La veste è la veste della gentilezza o della pazienza, e anche quella a cui si riferisce il brano che dice «Indosseremo l'armatura della perseveranza». Quanto al seggio, se ci si dedica alla pratica senza risparmiare la propria vita, allora esso diventa il seggio della vacuità di tutti i fenomeni, avendo reciso ogni attaccamento alla propria identità transitoria. La stanza è così chiamata perché quando si espongono gli insegnamenti si dimora nella pietà e nella compassione. Ciò significa avere quel tipo di sollecitudine che una madre ha per suo figlio. E noi non stiamo forse adempiendo queste tre regole della predicazione in ogni istante della nostra vita? Pagina 36 Le tre regole per la predicazione La veste, il seggio e la stanza Consideriamo adesso la parte della raccolta degli insegnamenti orali che riguarda le tre regole per la predicazione, dette anche le tre regole della veste, del seggio e della stanza. La parola regola, qui, ha il significato di direzione, modo, guida. Come dovrebbero gli uomini e le donne devote, cioè i maestri della legge, che praticano il sutra del loto in un'epoca successiva alla morte del Buddha, predicare il sutra per il bene degli altri? Le tre regole della veste, del seggio e della stanza, metafore ricche di umanità, sono un'indicazione per farlo. Nel passo precedente a quello che stiamo studiando, le tre regole della veste, del seggio e della stanza sono poste in relazione con i tre corpi del Buddha, cioè il corpo del Dharma, il corpo di ricompensa e il corpo manifesto. Il Daishonin afferma che quando mettiamo in pratica tale regole, acquisiamo le virtù di verità, saggezza e compassione, caratteristiche dei tre corpi, e dichiara Ora Nichiren e i suoi seguaci, che recitano Nammyoho Rengekyo, stanno adempiendo queste tre regole della predicazione, rappresentate dalla veste, dal seggio e dalla stanza, in ogni istante della loro vita. Le tre regole vengono esposte dopo l'ammonimento del Buddha e poiché odio e gelosia nei confronti di questo Sutra abbondano, perfino mentre Tathagata è nel mondo, quanto peggio sarà dopo la sua scomparsa? È prevedibile che la diffusione dell'insegnamento corretto nell'epoca malvagia, dopo la morte di Shakyamuni, provochi persecuzioni. Proprio come afferma questo passo del Sutra, il Daishonin ne subì molte, fra cui quella di Tatsunokuchi, quando rischiò di essere giustiziato, ma resistette a tutte, al fine di insegnare e diffondere la grande legge per l'illuminazione delle persone, per l'eterno futuro dell'ultimo giorno della legge. Anche noi non dobbiamo arrenderci o rinunciare, qualsiasi difficoltà possiamo incontrare. È questo lo spirito risoluto che caratterizza un fiero discepolo di Nichiren Daishonin. Praticare il buddismo significa essere vittoriosi. Non possiamo affrontare e superare le tempeste avverse con una determinazione debole e poco convinta. Per questo la veste che abbiamo indossato è sia quella della gentilezza e della pazienza, sia l'armatura della perseveranza. Sedere sul seggio del Tathagata significa dedicarsi alla pratica senza risparmiare la propria vita. Tra le onde furiose del mondo reale è avanzare intrepidi, di fronte alla natura demoniaca delle autorità arroganti. Entrare nella stanza del Tathagata significa sviluppare una compassione simile a quel tipo di solicitudine che una madre ha per suo figlio. La forza di proteggere tutti dai pericoli. Quest'anno, il 3 maggio 2023, è anche il 35esimo anniversario del giorno delle madri della Sokha Gakkai. Come sarebbe felice il Daishonin di vedere la grande solidarietà delle donne Sokha, di tutte le età, amiche nella stanza di Orchidee, colme di rispetto per la dignità della vita. Le tre regole per la predicazione sono come guide per vivere bene e aiutare gli altri, basate sulla gentilezza, sul coraggio e la compassione. Nichiren ci insegna che praticando queste regole possiamo affrontare qualsiasi sfida. È come indossare un'armatura spirituale che ci rende forti e gentili allo stesso tempo. Ora, visto che non sono tanto facile, cerco di spiegarmi un po' meglio. Indossare la veste rappresenta la nostra direzione di vita e di pratica, un po' come avere una bussola. La verità e l'onestà del nostro vivere vengono alimentate dal nostro io più profondo e quindi ci vestiamo di gentilezza anche per la praticazione e propagazione. Il seggio è il modo in cui noi ci impegniamo nella vita e nella pratica, un impegno profondo e saggio, portato nel mondo mostrando come noi riusciamo ad affrontare le difficoltà senza mai indietreggiare. La stanza rappresenta lo spazio che occupiamo nella vita nel quale degli altri. Dobbiamo essere esempi, essere persone di profonda compassione. I membri della Soka Gakkai stanno creando le stanze delle orchidee della compassione. Le tre regole della veste, del seggio e della stanza mi ricordano sempre il dialogo fa il padrone di casa e l'ospite nel trattato adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese. Profondamente preoccupati per i disastri naturali che stavano affliggendo il paese e arrecavano sofferenza alle persone, il padrone di casa e l'ospite trovano l'uno nell'altro l'interlocutore con cui condividere le proprie riflessioni e si siedono per parlare insieme. Nel corso della conversazione l'ospite reagisce con rabbia alle critiche, agli insegnamenti della pura terra, Nembutsu, mosse dal padrone di casa e si alza per andarsene. Ma il padrone di casa, con un sorriso tranquillo, lo esorta a rimanere e gli spiega con pazienza il ragionamento e la verità su cui si basano le sue osservazioni. L'ospite si calma e ricomincia ad ascoltare ben disposto. Qui vediamo come il padrone di casa, indossando la veste della gentilezza e della pazienza, abbracci con calore l'ospite arrabbiato, portando avanti un dialogo onesto, aperto e libero da pregiudizi. Così facendo, crea una stanza delle orchidee della compassione, pervasa di empatia nei confronti di chi soffre. La diffusione in Giappone in tutto il mondo di un simile dialogo, basato sulle tre regole della veste, del seggio e della stanza, costruirà una sola da base per realizzare l'ideale del Daishonin, di adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese. Non si tratta dell'obiettivo da realizzarsi in un futuro lontano, ma è ciò che i membri della Soka Gakkai, i migliori fai maestri della legge, stanno concretizzando adesso, dialogando con costanza e vivacità. Pagina 38 Condividiamo il buddismo nella vita quotidiana. Sono passati 80 anni dall'arresto e incarcerazione di Tsunesaburo Magikuchi e Giusei Toda da parte delle autorità militariste giapponesi luglio 1943. Nonostante le dure condizioni della prigionia, essi non smisero mai di tenere alto il vessillo del dialogo per l'adozione dell'insegnamento corretto per la pace nel paese. Magikuchi trasformò i suoi interrogatori in occasioni per discutere di filosofia buddista e Toda fece conoscere il buddismo di Nichiren alle guardie carcerarie. Questa incrollabile determinazione a recitare e a diffondere la legge mistica in ogni circostanza incarna la pratica delle tre regole della veste, del seggio e della stanza. Seguiamo dunque l'esempio dei nostri grandi maestri Magikuchi e Toda e continuiamo a lavorare per cose ruffo senza allentare i nostri sforzi. Quando condividiamo con onestà e sincerità il buddismo noi dimoriamo nello stesso luogo del Tathagata. I maestri della legge sono sempre insieme al Buddha. Poco prima del brano sovracitato della raccolta degli insegnamenti orali Ida Isshone riporta un commentario in cui si afferma mattina dopo mattina ci svegliamo con il Buddha sera dopo sera andiamo a dormire con il Buddha momento per momento noi raggiungiamo la via momento per momento riveliamo la nostra vera identità. I maestri della legge incarnano insegnano e promuovono incessantemente il buddismo nel corso della loro vita quotidiana perché questa è la via che conduce alla felicità eterna. Pagina 39 L'ispirazione spirituale forgia individui capaci Nel 1983 il giorno dopo aver celebrato gioiosamente il 3 maggio con un gruppo di giovani mi rekaio a Irakawa al confine occidentale di Tokyo o cari ricordi di quella zona da quando molti anni prima vi avevo accompagnato Toda per una sessione di formazione all'aperto del gruppo sui kokai dei giovani uomini disse ai presenti gli eventi che appartengono alla storia di Koserrufu possono sembrare di poco conto ma con il passare del tempo acquisiranno un significato più profondo grande eterno questa riunione di oggi e tutti voi che siete qui brillerete sicuramente nella storia eterna di Koserrufu nero pienamente convinto perfino il possente fiume gange ha inizio da una singola goccia d'acqua poiché grande voto che anima il movimento Soka è autentico sapevo che i nostri giovani anzi tutti i nostri membri nei momenti di adversità si sarebbero alzati incoraggiandosi e ispirandosi a vicenda sapevo che avrebbero formato un possente fiume di individui capaci che alla fine avrebbero cambiato i tempi e il mondo i maestri della legge di cui si parla nel Sutra del Loto sono in realtà bodhisattua che ardono del grande voto per Koserrufu vanno attivamente fra la gente e si impegnano in dialoghi per costruire un mondo pacifico tracciando nuovi modi di procedere una sola persona di questo tipo diventa un sostegno spirituale per molte altre nella propria comunità rende più luminosa la società con lo splendore della sua vita e ispira gli altri noi i maestri della legge Soka abbiamo la grande missione di comunicare ampiamente all'intera famiglia dell'umanità il messaggio di rispetto e coesistenza armoniosa contenuto nel Sutra del Loto è nostro compito costruire una nuova epoca in cui le persone risplendano di dignità e fioriscano meravigliosamente nel loro modo unico in accordo con il principio del ciliegio susino pesco e prugno selvatico noi siamo importanti e ogni nostra piccola azione che facciamo insieme agli altri costruisce qualcosa di enorme da un piccolo seme nasce un albero gigante è un po' questo il concetto dietro Cosen Rufu tutti lavoriamo insieme per fare del mondo un posto migliore un pezzettino alla volta pagina 39 adesso è momento di alzarsi con gioia ogni 3 maggio in tutti questi anni ho pregato con rinnovata determinazione compagni e compagni di fede bodisato della terra e voi giovani che siete la nostra speranza alzatevi con gioia e dinamismo diventate un fiume possente di persone capaci che inaugureranno un secolo della vita e rispandete ancora di più la nostra marea montante di cittadini e cittadine globali che creano felicità e pace ora è il momento svegliamoci carichi di felicità e pronti a sprigionare tutta la nostra energia il 3 maggio è il nostro segnale di partenza il giorno in cui rinnoviamo la nostra forza interiore e riaffermiamo il nostro impegno deve essere questo il nostro grido di battaglia soprattutto per i giovani siate la forza propulsiva capace di cambiare il mondo avanti insieme bene e come sempre siamo arrivati in fondo ci stiamo continuando a sforzare ci saranno miglioramenti tecnici se hai qualsiasi cosa da dirci come critica costruttiva siamo pronti comunque spero che tu possa aver apprezzato il nostro sforzo ti ringrazio per averci seguito e alla prossima ciao ciao